Benvenuti su Gossip Mania TV. Perla Vatiero e Mirko Brunetti sorprendono a Verissimo con Silvia Tofanin, Mirko è tutto, ho avuto molto ci asterisco lo. Prima di proseguire, se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità, ti chiediamo gentilmente di iscriverti al canale ed attivare la campanellina. Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono stati recentemente ospiti del programma televisivo Verissimo, in onda ieri domenica 31 marzo, nel giorno di Pasqua. La coppia, vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha condiviso i dettagli della loro storia d'amore nel salotto di Silvia Tofanin, esplorando le loro emozioni e progetti futuri. Durante l'intervista, Perla ha espresso la sua sorpresa per la vittoria nel reality, confessando di essere ancora in fase di elaborazione di tale successo. Ha descritto l'esperienza nel Grande Fratello come un viaggio magico e unico, sottolineando l'emozione dei suoi genitori di fronte alla sua vittoria. Mirko, d'altro canto, ha condiviso la sua gioia nell'abbracciare Perla al momento della sua vittoria, rivelando che entrambi desideravano vivere quel momento lontano dalle telecamere. Ha sottolineato come la loro relazione abbia affrontato difficoltà, specialmente durante l'interazione con Greta Rossetti, coinvolta in un complicato triangolo amoroso all'interno della casa. Perla ha rivelato di aver considerato l'idea di lasciare il gioco a causa della pressione derivante dalla presenza di Greta, ma il loro sentimento reciproco non si è mai spento. Ha inoltre condiviso di aver avuto modo di chiarire la situazione con Greta durante il loro tempo insieme nella casa, sottolineando la comprensione reciproca raggiunta tra loro. Mirko ha enfatizzato la necessità di vivere la loro relazione con tranquillità e normalità, evitando di ripetere gli errori del passato causati da una convivenza prematura. Ha riconosciuto l'importanza di riprendere il controllo della propria vita prima di prendere decisioni importanti. Entrambi hanno sottolineato la forza della loro relazione e la loro determinazione nel farla funzionare. Hanno anche espresso gratitudine per il supporto reciproco e l'amore che li lega, nonostante le difficoltà affrontate. Inoltre, durante l'intervista, Greta Rossetti ha raggiunto Perla Vatiero e Mirko Brunetti in studio, descrivendo la loro amicizia nata gradualmente all'interno della casa. Ha elogiato la forza di Perla e ha condiviso la loro esperienza di crescita e comprensione reciproca. In definitiva, la storia d'amore tra Perla e Mirko continua ad evolversi, con la determinazione di affrontare insieme le sfide future e di consolidare il loro legame speciale. Lascia un commento alla fine del video e seguici per gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. A presto con un nuovo video. Ci vediamo al prossimo gossip.